Sono nata in Derfur. Mio padre e mia madre erano entrambi insegnanti. Mio padre insegnava storia e mia madre matematica. Adesso sono anziani e non insegnano più. Ho due fratelli e quattro sorelle. Io ho fatto le scuole nella mia città e poi sono andata a fare l'università a Khartoum. Ho studiato letteratura araba e dopo l'università sono tornata a casa a insegnare arabo nelle scuole superiori. Ho insegnato per otto anni. Poi ho conosciuto mio marito, era un amico di mio fratello. Ci siamo sposati e sono venuta in Italia con ricongiungimento familiare. Abitiamo in un palazzo occupato. Prima di partire non avevo mai pensato di venire in Europa. Non avevo mai pensato di partire. Il mio paese è il mio paese. Ma sono contenta di essere venuta in Europa. Quando c'è stata la rivoluzione io sono stata molto contenta perché 30 anni di dittatura hanno distrutto tutto. Non solo io sono stata contenta ma tutti sono contenti per la rivoluzione. Non ero politicizzata, non facevo politica ma sapevo quello che non andava in Sudan. Anche in Darfur facevano gruppo per uscire, scendere in piazza, manifestare. Ma io ero in Italia. Quando noi organizzavamo le manifestazioni qui in Italia partecipavo. Ci sono associazioni e gruppi che parlano sempre ma prima della rivoluzione non si poteva parlare apertamente. Si parlava della situazione delle scuole. Quando è scoppiata la rivoluzione io ero qui e l'ho saputo dal giornale e dalla televisione e poi seguivamo sempre su internet le notizie. Usavamo Facebook o il telefono ma specialmente i social. Prima della rivoluzione non usavo Facebook. Facebook non mi piace sempre perché possono esserci fake news. Quindi io utilizzavo Whatsapp. Io chiedevo ai miei fratelli la situazione, soprattutto le manifestazioni davanti al Ministero della Difesa. Poi mio fratello mi mandava le foto e mi raccontava la situazione. Il 3 giugno quando hanno sgomberato il sitin ero preoccupata certo. Tutti eravamo molto preoccupati per tutto il Sudan. Non ci aspettavamo che succedesse quello che è successo. Non avevo amiche al sitin ma avevo mia sorella che era andata a Cartoon per motivi personali e ha partecipato. Non mi ha mai chiesto aiuto però qualsiasi persona che va alla manifestazione dà quello che ha in tasca. Lei non ha chiesto aiuto ma ogni persona che va alla manifestazione aiuta come può. Il sitin e la rivoluzione non hanno prodotto una maggiore consapevolezza nelle donne dei loro diritti. Anzi il tema della libertà delle donne non era prioritario. La priorità era abbattere il regime. In Cartoon la rivoluzione ha coinvolto donne nelle strade. Donne che contrariamente all'usanza che le vuole timide e riservate urlavano in mezzo alla strada. Queste donne sapevano già cosa volevano. Queste donne hanno certamente trainato altre donne che hanno capito che era un'occasione storica. Ci sono differenze nelle rivendicazioni fra donne e uomini? Tutti vogliamo libertà, giustizia, diritti e pace. Però è vero che le donne hanno chiesto diritti che non c'erano in questi anni. Le donne non possono partire da sole senza fratelli o mariti. Le donne sono sfavorite nell'accesso al lavoro. In particolare le donne chiedono rappresentanza politica. Per ora hanno detto che ci daranno il 40 per cento ma noi vogliamo il 50 per cento. Le donne sudanesi lottano da tanti anni per i diritti delle donne. Dal tempo della colonizzazione. Le donne che hanno studiato chiedono i diritti politici. Le donne semplici chiedono le cose più basilari. Cibo, salute. Nel sit-in eravamo insieme. In qualsiasi rivoluzione. Per vedere il cambiamento ci vuole tantissimo tempo. Dopo 30 anni è difficile avere un cambiamento totale. Ma ci sono segnali importanti come gli accordi di pace. Io sono ottimista anche rispetto alle donne. Gli accordi di pace sono la questione più importante. Non c'è un cambiamento pratico immediato. Ci sono piccoli cambiamenti in termini di diritti delle donne. Ci vuole prima la pace. Anche le donne più semplici hanno consapevolezza che devono avere i diritti e reclamare i diritti e che la loro voce deve arrivare al governo. Il cambiamento politico trainerà il cambiamento sociale ed economico. Noi abbiamo subito un processo di arabizzazione e islamizzazione che dal vertice ha cambiato la società. Ora è possibile allo stesso modo de-islamizzare e de-arabizzare la società. Noi siamo neri, non siamo arabi. allo stesso modo. Allo stesso modo di aprire il nostro corso di queste strada. Noi siamo loro mamma. Quindi sei la nostra strada. Noi siamo. Non siamo. Non è